Bene, buonasera, incontro insomma, cerchiamo di avvicinarci a Tinkercad. Tinkercad è un programmino molto semplice, per molti versi, sviluppato da Autodesk, che credo aveva fatto anche Autocad, e permette di creare degli oggetti 3D in maniera semplice, molto più semplici di quello che si farebbe ad esempio un Blender, ecco perché ne stiamo parlando. Sono arrivato a Tinkercad anche per suggerimento di chat GPT, stavo facendo un progetto e a un certo punto mi è stato offerto come prodotto alternativo appunto a Blender, da far usare eventualmente ai bambini. E in effetti l'ho poi guardato un attimo e ho visto che effettivamente consente di lavorarci. C'è tante cose questa Tinkercad, ma a noi ci interessa un progetto 3D, quindi facciamo un nuovo progetto 3D e quindi entriamo decisamente in questo ambito qua. Ora a questo punto abbiamo, quindi facciamo un tutorial minimale, quindi Tinkercad sostanzialmente progetta su una piattaforma di lavoro, un piano di lavoro, abbiamo la possibilità di aggiungere degli elementi su questa piattaforma. Tra parentesi ricordate che col tasto destro potete praticamente girare la piattaforma e con la rotellina del mouse potete avvicinarvi, quindi potete navigare. Alternativamente potete anche cliccare qua per navigare, quindi per girare, se viene scomodo, tipo sul vostro, diciamo, i pad o quello che è, potete anche vedere la scena dall'alto, oppure potete praticamente vederla di fronte, quindi avete questa possibilità, potete attivare o disattivare, insomma, tante cose ve le esplorate, adesso non so di tagliare per filo, per segno, tutto. Comunque prendiamo praticamente la visualizzazione più o meno in default, che è questa, e vediamo che possiamo praticamente metterci un cubo. Ora vedete che il cubo praticamente lo mettiamo, e poi una volta messo il cubo, che diventa rosso, vedete che il solido è presentato in rosso, o comunque colorato, e poi ci arrivano praticamente delle ancore, vedete che adesso con il tasto destro giro, mi metto in modo tale da vedere bene il mio oggetto, e vedete che posso praticamente lavorare sulle varie ancore, su queste maniglie, e quindi, tra parentesi, se notate, il cubo è 20x20, quindi 20, credo, centimetri in questo caso qua, e praticamente possiamo allinearlo, e quindi vedete che possiamo farlo diventare grande, più o meno quello che voglio, quindi se voglio farlo 40, e per 42, quindi vedete che 40 di qua è 42, utilissimo il fatto che ce lo faccio vedere, perché non è automatico, e possiamo tranquillamente, praticamente appoggiarci sopra questo coso qua, altre cose. Poi se per caso anche qui, vogliamo accorciarlo, è molto semplice, se vogliamo da 20 possiamo portarlo a 10, sempre cliccando possiamo, e quindi abbiamo ottenuto questo effetto qua. Se vogliamo metterci un'altra cosa, una sfera, prendiamo una sfera, e ce la portiamo, ok, in giro, e ce la mettiamo dove vogliamo, ok? E quindi abbiamo la sfera portata lì, e la sfera portata lì, diciamo, possiamo, se non clicchiamo sulle ancore, possiamo, potenzialmente, dovrebbe esserci, ecco, probabilmente questa cosa ci permetta di alzare la sfera, e possiamo anche metterla insieme, ok? Ora a questo punto possiamo fare, ho avuto una serie di messirini, che in Blender, ad esempio, sarebbero già un attimo complicatini, nel senso che se noi clicchiamo sulla sfera, blu, e poi clicchiamo con lo shift, anche sull'altro oggetto che ho messo, abbiamo praticamente, selezionato praticamente due oggetti, e possiamo unirli insieme con questo aggruppamento, aggruppa, ctrl G, quindi possiamo o cliccare qua, o fare ctrl G, e facendo ctrl G, otteniamo praticamente un unico oggetto, che a questo punto, vedete che è cambiato colore, è diventato un qualche cosa di più, cioè è un oggetto che possiamo comporre in vario modo. Analogamente possiamo anche fare, quello che si chiama praticamente il logico booleano, adesso in questo caso abbiamo assommato un cubo con una sfera, ma noi possiamo prendere un qualche cosa, ad esempio un'altra sfera, la mettiamo qua, e possiamo fare in modo tale che la sfera si stragga, no? Magari la restringiamo, quindi facciamo una sfera più o meno più piccola, no? Tipo così, una sfera così, poi potete farvela come volete, e poi diciamo che possiamo decidere che la sfera, invece di essere solida, sia un, lo chiamo vuoto, e vuoto vuol dire, cosa vuol dire vuoto? Vuol dire che praticamente, quando spostiamo questa sfera, e la mettiamo, la portiamo praticamente dentro il cubo, invece di, come vedete, fa un effetto che è quello di, di, di tagliare, quindi praticamente tagliamo questo oggetto, ora, tagliare vuol dire che lo buca, questo vale per comunque oggetto, quindi ad esempio questo qui, è la sfera che taglia, ma possiamo anche prendere, ad esempio, qui ci sono già alcuni oggetti di taglio, che sono questi, quindi prendiamo il cilindro, ad esempio, questo, il cilindro possiamo, provare a, girarlo, quindi vedete che anche qua, abbiamo la possibilità, di girare il cilindro, e abbiamo la possibilità, di ridurre, praticamente, le dimensioni del cilindro, più o meno come avevamo fatto prima, magari c'è un sistema, un po' più ottimizzato, e quindi possiamo usare, questo cilindro, per come un taglio, per tagliare, praticamente, il corso, quindi facciamo, ancora un pochino, più piccolo, vedete che, a questo punto, lo possiamo, girare, possiamo usarlo, per tagliare, il nostro, il nostro, il nostro oggetto, quindi praticamente, se lo mettiamo dentro, facciamo, progettiamo, praticamente, un taglio, dentro, dentro il cubo, il taglio, non viene fatto, ma viene solo indicato, perché venga fatto, dobbiamo fare, il lavoro di prima, cioè, avendo selezionato, questo oggetto, di taglio, e poi, clicchiamo, anche l'altro oggetto, con shift, facciamo, di nuovo, un, raggruppa, e a questo punto, abbiamo ottenuto, praticamente, un oggetto, complesso, in cui, praticamente, abbiamo fatto, il taglio, se il cilindro, fosse stato lungo, fino in fondo, questo sarebbe stato, un buco, completo, dentro, il cubo, quindi, così, abbiamo visto, alcune operazioni elementari, che sono quelle di, che abbiamo visto, facciamo, aggiungiamo anche questo, un taglio, mettiamo lì, un taglio, fatto così, facciamo un shift, questo, ripetiamo, la combinazione, e quindi, come vedete, riusciamo a ottenere, delle forme, che sono assolutamente, non banali, tra pentasi, TinkerCard, viene usato molto, appunto, per fare, oggetti, che poi, vengono stampati, in 3D, con delle stampanti 3D, ora, l'ultima cosa, che è fondamentale, è l'allineamento, che, un tutorial, di TinkerCard, non può fare a meno di spiegare, quindi, per spiegarlo, mettiamo, un cubetto, come questo, e sul cubetto, ci mettiamo, ad esempio, la, ci mettiamo, praticamente, questa, sarebbe la, la testa, no? E, questo qui, magari, lo mettiamo, praticamente, sopra. Ora, vedete che, allineare, un oggetto, con un altro, fatto a mano, si può fare, ma, non è detto, che si ottengano, grandi risultati, però, se si selezionano, gli oggetti, con Shift, quindi, quello lì, più Shift, questo, e poi, si seleziona, su questo oggetto, a questo punto, possiamo provare, ad allineare. E, l'allineamento, non era quello, era quello specchio, scusate, volevo fare, l'allineamento, che è questo, allina, ecco, quando c'è l'allineamento, vedete che, compaiono, delle maniglie, dei punti, che sono questi, questi punti, praticamente, permettono, di allinearle, ad esempio, in questo caso, centrarle, quindi, vedete che, il tetto, viene centrato, e, volendo, possiamo, poi, comunque, allinearle, su altre cose, quindi, allineandolo qua, praticamente, vedete, ci fa anche una preview, nel senso, che, cliccando qua, ci fa vedere, che il cubo, sotto, si sposterebbe, di sopra, allineandolo qua, fa vedere, che viene centrato, quindi, centrati tutti, due gli oggetti, quindi, c'è, vedete che c'è, sia il cubo, che il tetto, che vengono centrati, a un certo punto, ecco qua, vedete che, vabbè, quelle cose, ah, ok, si clicca l'oggetto, su cui si vuole centrare, e poi si può, scegliere, praticamente, la centratura, su quell'oggetto lì, quindi, così, praticamente, si, si centra, comunque, diciamo che, normalmente, vengono usati, semplicemente, per allineare, tra i quattro oggetti, in maniera tale, che siano, sulla stessa, direzione, abbiamo poi, varie cose, ad esempio, cliccando questo, abbiamo, un strumento di lavoro, che ho ancora guardato, in realtà, e, diciamo che, le cose base, per questo tutorial, sono, sono queste, poi, salviamo il nostro oggetto, in qualche modo, ma soprattutto, possiamo, prendere un oggetto, e fare esporta, e quindi, esportare, la nostra forma selezionata, oppure, tutti gli elementi, della scena, in tre formati, che, se guardate, sono tutti, molto interessanti, perché, c'è il GLB, che è molto usato, l'OBJ, che è molto semplice, anche lui, oppure l'STL, GLB, permette di esportare, direttamente, mondi virtuali, quasi tutti, praticamente, compreso, sempre, con Spaces, Mozilla Hub, o altri, ma, ci sono anche, dei formati, anche interessanti, per fare, dei tagli, in certo modo, quindi, esportando, il GLB, abbiamo, il nostro, il nostro oggetto, qui abbiamo, anche, la possibilità, di pilotare, direttamente, le stampanti laser, come ho già detto, che è usato, molto spesso, per stampare, e, però, possiamo fare, anche il contrario, quindi, se abbiamo, già una forma presente, possiamo fare, in porta, e quindi, trascinarci, un oggetto, 2D, o 3D, quindi, i formati, STL, OBJ, SVG, quindi, sono un po' di meno, mi sarei aspettato, di trovare, anche, in CLB, però, va bene, anche, l'OBJ, perché, da Blender, o da altri, strumenti, si riesce a tenere, e quindi, si possono, comunque, importare, oggetti, che, però, come vi ho detto, devono essere, abbastanza piccoli, quindi, 25 MB, che, comunque, non è poco, SVG, vuol dire, che, si possono importare, gli schizzi, ma questo è un altro tutorial, oppure, anche, da una urla, quindi, abbiamo visto, praticamente, come comporre gli oggetti, dalle forme elementari, tra prendersi, non l'abbiamo visto, ma ci sono, delle cose molto interessanti, per cui, si possono fare, anche, dei testi, fatti, per bene, oppure, si possono schizzare, a mano libera, con Scribble, praticamente, dei pezzettini, che possono essere spiegati, direi, che, come base, per usare, TinkerCard, questo, è tutto, da qui, poi, dopo, ci sono, moltissimi altri tutorial, già fatti, che potete, quindi, controllare, fatti, da persone, anche più bravi di me, spesso sono in inglese, ma, direi che, si dovrebbe capire, abbastanza, anche, vedendo, un tutorial, in inglese, anche perché, come vedete, i comandi da fare, sono, tutto sommato, relativamente semplici, e con questo, vi saluto, buona giornata.